Mattarella, l'Italia ha saputo reagire. La pandemia ci ha insegnato che abbiamo bisogno degli altri. Fondamentale è il valore della ricerca. I vaccini rallentano la corsa del Covid. Quasi 1900 nuovi contagi. Dopo mesi cala sotto l'1% il tasso di positività. I fini della missione nata in Afghanistan. Dopo 20 anni l'Italia ammaina il tricolore. Guerini e Erat. Il pensiero è 53 caduti. La rete di Amara ha arrestato l'avvocato al centro del caso CSM. L'accusa a scambi di favori con la loro procuratore di Taranto sull'ex Ilva. Mal tempo. Violento nubifraggio su Roma. Strade come fiumi. Allagato un asilo. Temporali anche su Lombardia ed Emilia. Francia. A Macron un sonoro ceffone tra la folla mentre visita il sud-est del paese. Due arresti unanime sdegno e solidarietà. Giornata mondiale degli oceani. Salvare il polmone blu del pianeta. Dal mare dipende la nostra vita. Ci regala ossigeno e ci libera dalla CO2. La minaccia da plastiche, veleni e riscaldamento globale. Buonasera a tutti voi dalla TG1. Anche nei tempi bui del Covid il paese ha dato prova di saper reagire e progettare. Lo ha detto il presidente Mattarella in Milano. La pandemia, ha aggiunto il capo dello Stato, ci ha insegnato il valore della ricerca e della collaborazione. Noi abbiamo...